come non proiettare i nostri stati d'animo sui nostri pet per avere una buona comunicazione tra esseri umani innanzitutto è importante saper riconoscere i propri stati d'animo le proprie sensazioni le proprie aspettative e non proiettarle su altri esseri umani questo proprio per avere un contatto pieno profondo autentico con l'altro da sé che non siamo noi ma appunto un'altra persona questo meccanismo di proiezione che interrompe un contatto profondo autentico e pieno con l'altro avviene anche quando abbiamo a che fare con i nostri pet spesso tendiamo proprio a antropomorfizzare il nostro animale e quindi proprio a rivestirlo di tantissime aspettative emozioni che in realtà non sono sue ma sono nostre diciamo è spaventato e triste mentre in realtà quelli spaventati o tristi siamo noi quindi è importante riconoscere le nostre sensazioni le nostre emozioni senza attribuirle ai nostri pet e inoltre è anche importante non caricare di troppe aspettative i nostri pet nel senso che spesso se non fa la cosa che vogliamo tipo ritiriamo la palla non va a prenderla non lo so oppure non fa la pipì dove deve farlo subentra un meccanismo un po come se loro dovessero sempre fare a noi una buona performance questo non è buono non sono lì per obbedirci per assecondare le nostre aspettative loro sono molto collaborativi con noi farebbero di tutto per assecondarci dobbiamo tenerlo presente e questo può aiutarci ad avere una comunicazione appunto più profonda più autentica relazionarci in un modo che fa stare meglio sia noi che il nostro pet qui di lato vi lascio altri due tutorial dove rispondo alle vostre domande vi ricordo che per farmene nuove non vi basta che iscrivervi alla nostra community www.baoboys.tv e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale ciao baoboys ci vediamo al prossimo clip ciao